si può andare in moto ed essere casual si può andare al lavoro con abiti da moto garantendosi così una buona protezione individuale ma presentandosi bene al lavoro e non vestiti prettamente da motociclisti si la risposta è sì come vedete io sono vestito da moto ho tutti tutti i componenti da moto addosso a me ma sono con un abbigliamento che mi consente di andare anche in ufficio iniziamo dalle scarpe le scarpe sono degli scarponcini sono impermeabili ma la peculiarità è quella di essere protette nei punti dove ci si fa male più spesso i punti nevralgici quindi il tallone e malleoli e poi ovviamente sotto la pianta poi ho dei jeans da moto si riconoscono per le protezioni morbide ma protettive comunque per il tessuto non si vede ma un tessuto antistrappo che soprattutto ci protegge in caso di scivolata dalle ustioni perché scivolare sull'asfalto ci surriscalda la pelle poi ovviamente qui si parla di un capo più un motociclistico il paraschieno è fondamentale perché le lesioni spinali inutile dirlo sono sempre gravissime le paghiamo molto care questo possiamo portarlo sotto la giacca è quasi invisibile e poi riporlo quando arriviamo in ufficio poi ovviamente la giacca questa è una giacca in pelle traforata che ci garantisce quindi di rimanere freschi in estate perché i forellini che ci sono sulla sulla pelle fanno passare l'aria in velocità e per una legge fisica quest'aria fa evaporare il nostro sudore e porta via calore l'evaporazione stessa porta via calore poi ci sono giacche invernali a due a tre strati impermeabili in pelle in goretex in cordura ci sono tanti tessuti ognuno può trovare la sua giacca l'importante che vi proteggiate la giacca sia omologata abbia delle protezioni quindi sui gomiti sulle spalle sulla schiena abbiamo già detto abbiamo il paraschiena infine ci sono i guanti anche questi sono dei guanti estivi quindi sono traforati ma sono protetti nelle zone neuralgiche e sono protetti sul palmo della mano capitolo omologazioni su motoskills.it trovate un articolo completo con una guida per scegliere l'abbigliamento giusto da moto qui facciamo vedere solamente le etichette ogni capo specifico da moto è soggetto a omologazione quindi controllate le etichette questa è l'omologazione en 16 21 barra 2 2014 quella specifica per gli indumenti protettivi per le protezioni questa invece è l'omologazione della giacca anche in questo caso c'è un codice numerico en 17 0 92 c'è il protocollo d'omologazione c'è la lettera a si divide in a semplice in 2 a e in 3 a leggete l'articolo su motoskills.it dove c'è spiegato tutto mi raccomando controllate sempre le etichette siamo pronti andiamo a fare un giro in moto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti